Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Primo Pride, Cosentino, in compagnia di Russo Cesare, radicali calabresi. Radicali italiani calabresi, perché siamo presenti qui? Non solo per i diritti civili, ma per una caratteristica umana che hanno queste manifestazioni. Per incontrare un'incredibile quantità di compagni che non si vedevano più e che potevi incrociare sulle tastiere. Ed è per questo che siamo qui e soprattutto anche per veicolare la nostra raccolta di film per la campagna Ero Straniero. E ho appena visto Giovanni Manoccio, delegato all'immigrazione della Regione Calabria. Ed è per questo che vi ringrazio e ringrazio chi organizza queste manifestazioni. Buon lavoro. Grazie mille, Cesare Russo, radicali italiani del circolo neoformato di Leonora Cavatorti, formato a Pizzo. Grazie. Libri.tv, Riccardo Cristiano. Grazie.